La Regione ha messo a disposizione di tutta l'Italia la piattaforma creata in Toscana per evitare di andare a ritirare nell'ambulatorio del medico di famiglia le ricette mediche e consentire così ai cittadini di rimanere il più possibile a casa in questo periodo di emergenza per l'epidemia di Covid-19. Sei le Regioni che si sono fatte avanti finora, Sardegna, Marche, Abruzzo, Friuli, Liguria, Val d'Aosta e la provincia di Bolzano. La piattaforma consente al medico di famiglia di inviare tramite sms il numero della ricetta ai pazienti, che lo consegnano poi al farmacista e ritirano direttamente il medicinale. La Regione Toscana, i servizi della ASL e le organizzazioni sindacali stanno predisponendo anche le linee guida a tutela della salute e della sicurezza dei laboratori impegnati nelle attività rimaste in funzione a seguito del decreto del Governo che ha chiuso tutte le attività produttive ritenute non essenziali. La Regione ha inoltre proposto al Governo di rimodulare alcune delle misure contenute nel decreto Cura Italia, con specifico riferimento ai settori dell'agricoltura e della pesca, estendendo la CIG in deroga ai lavoratori forestali, ad esempio, e prorogando la scadenza del rimborso di mutui e finanziamenti, nonché estendendo la sospensione dei versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Grazie a tutti!